Un ragazzo viene colto da un improvviso diluvio, corre verso la strada e vede una macchina a sopraggiungere a velocità ridottissima Se infila dentro, guarda verso il conducente, non c'è nessuno che guida Madonna, urlando esce fuori dalla macchina, corre verso il bar più vicino al paese, entra dentro Aiuta i fantasmi! Il barista lo guarda e fa, ma che fantasmi, ma che sta a dire? Dice, ci sono salito in una macchina e non c'era l'autista! Uno dei presenti che stava ascoltato, tutto bagnato fa, eccolo là il coglione che è entrato in macchina mentre la stavamo a spigne